Caso opera maestra e stella polare, la commissione atti avvia il recupero dei documenti. Turismo un agosto da sold out per recuperare un giugno pessimo. Dopo le frane a Casteldimezzo si ripristina il sentiero di accesso al mare. A settembre via i lavori per il Bike Hub nell'ex deposito delle locomotive. A Vallefoglia una settimana con il Festival delle Commedie Dialettali. Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro spazio serale con l'informazione di Rossini News. Telegiornale di venerdì 2 agosto che apriamo anche questa sera occupandoci del caso più discusso delle ultime settimane a Pesaro, quello degli affidamenti delle comune alle associazioni opera maestra e stella polare. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dopo la riunione della prima commissione atti e garanzia presieduta dal consigliere comunale Marco Lanzi. Una commissione che ieri sera si è riunita e che si riunirà nuovamente l'8 agosto producendo l'elenco dei mandati di pagamento e delle determine degli affidamenti che ad oggi superano i 550 mila euro. Una commissione che poi si aggiornerà dal 29 agosto con cadenza pressoché settimanale convocando i dirigenti che hanno firmato le determine così come gli assessori interessati ai settori dei vari affidamenti e gli stessi referenti delle associazioni opera maestra e stella polare. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di turismo perché inizia il primo weekend di agosto. Secondo il direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti c'è un'intera provincia che viaggia verso il tutto esaurito di presenze andando così a compensare un inizio d'estate col freno a mano tirato. È un dato che non riguarda solo la provincia di Pesorubino ma un po' tutte le Marche ma anche la vicina Romagna. A causa anche delle condizioni meteo che non sono state certamente positive e questa prima parte dell'estate non è stata delle migliori. Ci aspettavamo ovviamente molto di più ma d'altra parte abbiamo avuto un giugno pessimo anche dal punto di vista meteorologico per cui era difficile per i turisti e programmare le vacanze o fare i weekend lunghi. Le aspettative per il mese d'agosto ovviamente non potrebbe che essere così. Diversamente potremmo chiudere baracchi e burattini. Sono ottime quindi ci aspettiamo il tutto esaurito in tutta la provincia. La nostra aspettativa è però per settembre, ottobre, novembre cioè per l'altra parte dell'anno perché ormai da diversi anni abbiamo visto che grazie forse anche alle condizioni meteorologiche la fine dell'estate, i primi mesi autunnali sono ottimi sia per quanto riguarda la costa ma anche per soprattutto per l'entroterra grazie anche le tante iniziative che lì si svolgono. Quest'anno poi abbiamo il traino di Pesaro 2024 che al di là delle critiche ingenerose che alcuni fanno, ma c'è gente che è sempre abituata a fare critiche quindi non si sorprende più di tanto, c'è gente, ci sono tanti turisti che scoprono Pesaro, scoprono non solo il mare ma la bellezza di una città e di una provincia dove la ricchezza ambientale si sposa bene con la ricchezza culturale. E in tema di offerta turistica c'è anche un gioiello del San Bartolo che ora viene valorizzato ulteriormente da un ripristino stradale. Castel di Mezzo torna a guadagnare l'accesso al mare attraverso la strada Rive del Faro, sentiero pedonale di un chilometro fra i più suggestivi dell'intero parco San Bartolo. In dieci giorni di lavoro serrato il centro operativo del comune ha infatti ripristinato il tracciato reso inagibile dalle frane prodotte dall'alluvione di maggio 2023. Un sentiero ripulito e messo in sicurezza reso ancora più facilmente raggiungibile dal servizio di navetta gratuita che collega Pesaro a Gabicce passando per il San Bartolo. Un ripristino che Biancani aveva annunciato a metà luglio e merito al quale si appella ora alla regione per invitarla a considerare un intervento strutturale sulla falesia che permetta la riapertura definitiva della strada. L'intervento attuale delle comune non mette infatti il sentiero a riparo da presumibili altri smottamenti nel periodo invernale. Proprio la regione poche settimane fa aveva stanziato fondi dedicati ai percorsi pedonali ciclo pedonali di collegamento dalla panoramica alla statale. L'invito è a valutare di includere un percorso strategico per turismo e valorizzazione del parco. La polizia postale delle comunicazioni di Pesaro è venuta a conoscenza di un tentativo di frode informatica avvenuta con l'utilizzo della cosiddetta tecnica dello spufin telefonico che utilizza una modifica del numero dell'utenza chiamante, in questo caso di un falso operatore della polizia postale e di un falso dipendente di una banca conosciuta sul territorio nazionale. La vittima è stata contattata dai criminali in un primo momento mediante il numero telefonico apparentemente vero del servizio clienti della citata banca e successivamente dal numero telefonico apparentemente vero dell'ufficio della polizia postale di Pesaro, mediante il quale l'interlocutore si presentava come un sedicente ispettore Rossi. Nel corso della chiamata i criminali hanno presentato all'utente varie problematiche legate al proprio conto corrente al fine di convincerlo a spostare i suoi risparmi dal suo conto a beneficio di altri conti correnti sicuri. La truffa è però stata sventata e la polizia postale ricorda che in nessun caso invita telefonicamente gli utenti a produrre spostamenti di denaro. A Pesaro prosegue la riqualificazione dell'area attorno alla stazione ferroviaria. Dopo la rigenerazione del sottopasso dei Cappuccini il prossimo cantiere Alvia è quello che trasformerà l'abbandonato ex deposito delle locomotive in una stazione dedicata alla mobilità sostenibile. Da Vetuste abbandonato deposito delle locomotive ha spazio vivo dedicato alle biciclette e alla mobilità sostenibile. Dopo la riqualificazione del sottopasso dei Cappuccini sta per aggiungersi un altro tassello alla rigenerazione dell'area ferroviaria pesarese. È stato infatti affidato l'appalto per il cosiddetto Bike Hub, una stazione di bicipolitana il cui cantiere da 850 mila euro prenderà il via settembre per almeno otto mesi di lavori. Sarà a tutti gli effetti il punto di riferimento non soltanto per le amanti delle biciclette ma anche per i giovani perché all'interno di quello stabile saranno realizzati sia un'officina, un punto di riferimento per tutti coloro che si muovono con la bicicletta, utilizzano il treno per viaggiare piuttosto che gli stessi pesaresi che avranno un posto con il deposito sicuro dove poter lasciare le proprie biciclette, anche le biciclette elettriche. Quindi un punto di riferimento per la bici ma anche un bar gastronomico, quindi un luogo volto a ospitare piccoli eventi, concerti, un luogo dedicato ai giovani. in uno spazio che ad oggi era di fatto lasciato, degradato, abbandonato a se stesso. Un intervento importante che appunto darà completezza alla riqualificazione di quell'area avviata con la realizzazione del sottopasso, con il deposito delle biciclette che verrà aperto nelle prossime settimane e quindi già la parte del deposito, del manufatto già realizzato, finito in Corten, verrà aperto nelle prossime settimane e i lavori che partiranno sicuramente entro l'anno per poi avere per l'autunno, mi spingo un po' là, però l'obiettivo è quello di avere nell'autunno del 25 un edificio finito, pronto, utilizzabile, fruibile. Ed ora ampio spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo ad inviarci al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Le immagini che vi mostriamo si riferiscono innanzitutto alla passeggiata fra Moletto e Palla di Pomodoro dove le balaustre che danno sulle scogliere mostrano nuovamente evidenti segni di danneggiamenti fra parti di velte piegate o mancanti. Un'altra segnalazione di oggi mostra come all'alba di questa mattina si sia invece registrato una perdita d'acqua in piazzale D'Annunzio a pochi metri dal casco di Valentino Rossi, rottura poi riparata nel corso della mattinata. Ed ora un'altra segnalazione che riguarda sempre litorale pesarese ma in particolare la zona della spiaggia libera di Sottomonte. Quello che dovrebbe essere un passaggio pedonale per unire la statale adriatica al sottopassaggio ferroviario che conduce la spiaggia libera Sottomonte somiglia sempre più ad una giungla in cui la vegetazione che costeggia i binari si propaga fino al guardrail della stessa statale. E' quanto segnalato a Rossini TV da diversi frequentatori della spiaggia libera accessibile attraverso il sottopassaggio numero 2. Chi ci arriva via strada è portato quasi naturalmente a camminare lungo la scia di macchine parcheggiate lato monte anziché pensare di passare fra le sterpaglie rovi che si mangiano l'asfalto e fra la vegetazione che germoglia pure in bacche, more e lamponi. Il comune di Pesaro nei giorni scorsi ha deliberato uno stanziamento di oltre 800 mila euro in piccole e grandi manutenzioni e chissà che non venga inclusa anche un intervento di sfalcio di questa proliferazione di vegetazione. Per altre segnalazioni Rossini TV vi ricordiamo come sempre il numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. E' stata fissata per domenica 29 di settembre l'elezione dei nuovi consiglieri provinciali ma non del presidente della provincia che già fu eletto nel dicembre 2022 con mandato quadriennale e quanto disposto dal decreto firmato oggi dal presidente Giuseppe Paolini. Le urne per il consiglio provinciale saranno aperte dalle 8 alle 20 nella sala Pierangeli della provincia e nella sottosezione di Urbino allestita nella sede periferica del collegio Raffaello. Ed ora parliamo di spettacoli e di appuntamenti come ogni estate da domenica 4 di agosto. Gradara si riempie di magia, torna infatti per la sua undicesima edizione The Magic Castle all'evento estivo per famiglie che riporta nell'antico borgo marchigiano una straordinaria festa di emozioni, musiche e colori. Tutte le sere dal tramonto fino al 7 agosto si prepara ad offrire come ogni estate un ricchissimo programma di spettacoli sotto la confermata direzione artistica di Marcello Franca in collaborazione con la Proloco di Gradara e il patrocinio del Comune. Sono previsti tanti artisti internazionali con alcune anteprime assolute a livello nazionale come quella dei berlinesi Mirror Alliance, dei francesi Dodos e Dinkies Dinos di Frenkie Lele, delle pittore belga Steven e dell'artista russa Sasha Frolova. E da Gradara passiamo a Vallefoglia dove invece torna per la seconda estate il Festival delle Commedie Dialettali. Dopo il grande successo dell'estate scorsa, Piazza Municipio di Montecchio torna ad ospitare il Festival delle Commedie Dialettali. Dal 5 al 9 agosto cinque serate non stop con gli spettacoli di cinque compagnie del territorio. Ad aprire il sipario della seconda edizione sarà la Compagnia Accademia a seguire i nati per caso la Piccola Ribalta, la Compagnia Urbinate e la chiusura con la Compagnia Improvvisando per un festival presentato nel municipio di Vallefoglia. Questo è un evento importante, si va a concludere oramai la festa dei quartieri che è un altro evento importante, dopo la Notte Bianca, dopo la festa globale eccetera. E poi questa è un po' nelle tradizioni, sono due compagnie dialettali di Vallefoglia, uno di Montecchio, uno di Bottiga, Morciola, Capone, quell'area dell'ex comune di Colbordolo e poi tre compagnie di Urbino, Pesano, insomma del territorio. Anzi noi abbiamo realizzato anche un festival delle compagnie dialettali, anche il Teatro Branco a Sant'Angelo in Lissola. Pensiamo di poter continuare dopo l'evento della prossima settimana, da lunedì a venerdì, abbiamo realizzato un palco raddoppiato, messa a norma eccetera per tutti gli eventi, la piazza, la piazza del municipio che tiene tantissima gente, pensiamo che le 4-5 mila persone che sono venute l'anno scorso, di averle anche quest'anno. Ed ora andiamo a scoprire una mostra fotografica inaugurata a Pesaro in un luogo molto particolare come il Bosco che cammina. Siamo, vedete, all'esterno degli spazi allestiti da Gulliver, dalla Onus Gulliver insieme poi al patrocinio della Regione, per la mostra fotografica di Monica Cicciarello. Monica Cicciarello è una fotografa pesarese che una 15 anni fa è stata scoperta da chi la seguiva sui social, bravissima nel cogliere proprio le emozioni, le sensazioni che possano trasmettere situazioni particolari. Ha fotografato per esempio l'interno del San Domenico a Pesaro, ha fotografato delle donne sulla spiaggia capaci di farci capire cosa significa in tanti casi la solitudine e la voglia di rinascita. La mostra è stata inaugurata giovedì, alla presenza anche di molte istituzioni pesarese, durerà fino a domenica, è visibile qui negli spazi antistanti all'auditorio Scavolini, quindi davvero è bellissimo poter vedere queste foto. Invitiamo tutti coloro che possono farlo a visitare questo luogo, peraltro che come vedete è stato allestito nel Bosco che cammina, una delle realizzazioni artistiche legate a Pesaro, capitale della cultura 2024. La mia passione rimane sempre la libertà di fotografare quello che sento io, quindi adesso in questo caso dove siamo adesso si parla della possibilità che mi ha dato il Comune di entrare dentro l'ex ospedale psichiatrico San Benedetto per ben due volte. E ho cercato di, attraverso questi scatti che sono qui anche di, perché dentro ci si emoziona molto nonostante sia vuoto, senti proprio il vissuto di 50-60 anni di storia di persone sofferenti. Ho cercato di comunicare a chi non può entrarci, anche attraverso dei soggetti, l'ospedale psichiatrico che non avrebbero mai visto. Per una volta, visto che Monica ci ha sempre aiutato sia come Gulliver che come Iopra, per una volta voglio riunire le due associazioni e cercare di dare una mano a Monica. E così, Gulliver ha partecipato economicamente e lo Iopra ha partecipato economicamente ma indirettamente tramite la Regione Marche perché abbiamo chiesto un finanziamento e ottenuto tramite la nostra consigliera Vitri e quindi insomma una serie di attori per dare vita a questo spettacolo che con molta fatica abbiamo proprio montato anche fisicamente io e Monica e alcune sue amiche e di cui sono molto orgogliosa ma soprattutto perché vedo negli occhi di Monica una bella felicità. Racconta soprattutto un paio di cose, allora le donne e quindi la loro difficoltà quando cadono per mano degli uomini o di qualcuno che le fa del male e la loro grande forza nel risalire la china e poi c'è questo momento molto intimo, molto toccante che Monica ha voluto creare nell'angolo estremo dedicato ai più deboli perché Monica li ha fotografati, non solo ha fotografato le persone ma poi si è proprio introdotta all'interno del San Domenico e ha realizzato alcuni scatti che secondo me sono molto suggestivi e raccontano tanto. Con questa mostra lei ha esposto il suo lavoro fotografico storico con un senso molto grande e in queste foto che poi tutti i cittadini potranno vederli in questi giorni perché la mostra si mantiene fino a domenica e diciamo il senso e la solitudine, l'essere lasciato solo, abbandonato e quindi il discorso sociale perché purtroppo oggi come oggi i legami non ci sono più. E ieri nel centro di peso è stato inaugurato in via Zongo anche un nuovo punto vendita di abbigliamento. Si tratta del brand Bene VR realizzato dal 31enne stilista Andrea Coli che già riscuoteva tanto credito fra i cantanti italiani avendo vestito personaggi quali Laura Pausini, Max Pezzali e Colapesce di Martino. Ora, dopo le esperienze di vendita via social e online ecco il primo negozio fisico a contribuire tra l'altro a revitalizzare un'importante via del centro pesarese. Si apre una nuova pagina del calcio fanese con la presentazione oggi in comune del nuovo corso del Fano Calcio che trova sostegno nell'impegno di 18 imprenditori locali che hanno costituito il consorzio Fano Sport. Il sindaco Serfilippi nell'occasione ha ricordato come il comune si sia assunto la responsabilità di togliere all'alma Juventus Fano 1906 che è versa in condizioni economiche disastrose la concessione dell'utilizzo dello stadio Mancini che da oggi è affidato al Fano Calcio. Già partita l'istanza nei confronti della FGC per chiedere che la nuova squadra possa disputare il campionato di promozione. Ad essere nominato presidente del nuovo sodalizio Giovanni Mei figura storica del calcio fanese. Si chiude qui questa nostra edizione delle telegiornali Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti in questo venerdì 2 agosto ma non solo. Cominciamo dalla prima serata di questa sera quando alle 21.20 vi proporremo una nuova puntata del nostro programma del venerdì Estate Capitale che vi porta a conoscenza delle tante sfaccettature di questa estate di Pesero Capitale della Cultura settima puntata del format che vi porterà a scoprire i cibi dal mondo alla Baia Flaminia. Un altro cibo più tradizionale è quello delle pesche di Monte Labate che saranno oggetto dello speciale successivo quello delle 21.40 realizzato da Nicoletta Tagliabracci in occasione della settantottesima edizione di quella che è una delle sagre più antiche del nostro territorio. E poi domani alle 21.20 inizia la Due Giorni dedicata al Festival Canoro Gallo d'Oro vi proporremo nell'occasione la serata integrale della seconda edizione del Galletto d'Oro che poi potrete rivedere in replica l'8 agosto alle 15.15 e il 12 agosto alle 21.40. Domenica sera invece, domenica 4 agosto, vi mostreremo il Festival Canoro Vere e Proprio la competizione della 52esima edizione del Festival di Gallo di Petriano come sempre alle 21.20. Poi vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Buongiorno Rossini che torna puntuale domattina alle 7.20 in diretta con la rassegna stampa dei quotidiani locali condotta per l'occasione dal nostro Marco Cadettu. Ed è davvero tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.